La rinascita post-terremoto avviene anche quando l'arte diventa capacità di dare nuova forma e nuova vita a oggetti e materiali pronti a essere riciclati. E' questo il concept di Visioni e Passioni, la nuova mostra dell'artista Felice Meo, distanza al Marina 10 di Casa Micciola, il cui vernissaggio è stato curato da Ottorino Mattera e che sarà visitabile fino al prossimo 30 settembre. Un omaggio all'Isola Verde, che ancora porta i segni del sisma del 21 agosto dello scorso anno. Meo mette insieme vecchi cisterne d'acqua, fili di ferro, in un geniale naif che contraddistingue la produzione dell'artista eschitano. Così i pezzi di metallo che Felice recupera dove capita da amici e conoscenti assurgono a nuova vita, trasformandosi da oggetti di risulta di cui disfarsi in opere d'arte contemporanea, nella celebrazione del mondo naturale che desidera essere un antidoto alla deriva consumistica della società.